Continuiamo a parlare di derby, ne parliamo con due che l'hanno vissuto il derby. Insomma partiamo anche da Giuseppe Giannini per finire a Cristiano Bergogli. Botta e risposta. Poi nel derby andata perdemmo 3-0 in casa e insomma così ci presero un po' in giro magari andando sotto la curva alzando le dita a 3 così verso la curva loro. Insomma noi ce lo siamo un po' così segnati e poi dopo nel derby di ritorno ci fu un battibecco però insomma anche sì un po' pesante, siamo andati un po' sopra le righe. Mi ricordo uno scontro a me da campo e poi lui aveva il fratello che era alla Roma, era andato via e probabilmente immaginava che fosse stato mio padre a mandarlo via. Insomma si era creata questa ruggine, questo assio che poi dopo abbiamo chiarito e un giorno quando ci incontrammo all'aeroporto in Romania, pensa lui andava a fare l'allenatore in Romania, io ero già lì, ci siamo chiariti. Però poi con Beppe ci siamo rincontrati negli anni successivi, ci siamo anche riappacificati, tra l'altro Beppe è venuto anche in Romania come allenatore ad allenare quindi allora poi ci siamo riappacificati. Però io litigavo con tutti, io discutevo con tutti, anche con i miei compagni perché poi ero rompiscato anche in allenamento, quando c'era da vincere le partitine ero sgorbudico, non volevo perdere. Insomma però sono stati abbastanza sinceri anche a guardare il loro passato però insomma ci sta il modo di vivere così il derby.